salve a tutti ragazzi bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video continuiamo ad occuparci della nostra cittadina abbiamo alcune cose ancora da sistemare e volevo intanto ringraziarvi per i consigli che mi avete lasciato negli episodi scorsi tra cui una molto interessante che cercheremo di mettere in pratica oggi quella di fare appunto all'interno dei vari quartieri che abbiamo fatto un po più grandi magari non questi che sono tutti impicciati e questi magari potremmo renderli migliori magari questi che sono un po più grandi quindi con uno spazio al centro di posizionarci eventualmente dei parcheggi di fare una piccola strada in cui appunto soltanto le macchine ovviamente ci vanno ma solo chi vuole andare a parcheggiare potrebbe essere una una buona idea vediamo se riusciamo appunto a metterla in atto per esempio già qui devo vedere bene però la grandezza eventualmente del del parcheggio per evidenziare da andare a togliere delle delle case insomma qualcosa che abbiamo già posizionato ora vediamo se fare eventualmente una strada che taglia da destra verso sinistra oppure se metterla una doppia corsia che in questo caso lo facciamo partire da destra vista che a sinistra già abbiamo delle delle case e farla comunque a doppia senza quindi utilizzerebbero eventualmente la stessa sia per andare che tornare dal dal parcheggio allora facciamo già questa cosa così vediamo com'è la situazione e durante la partita vediamo come si evolve purtroppo sono sparite le cosette che abbiamo sbloccato nell'ultimo appuntamento l'avevo lasciata appunto per ricordarmene ma non ho poi registrato di seguito a quell'episodio quindi ormai su andate però grosso modo mi ricordo cosa abbiamo sbloccato allora vediamo prima questa cosa velocemente perché come strada piccola abbiamo qui il vicolo il vicolo appunto funziona con entrambe le direzioni quindi ottima per quello che ci serve e potrebbe essere cioè anche piccolina come spazio di ingombri quindi veramente fa al caso nostro allora vediamo un attimo ora non l'attacco vabbè si possa attaccarlo anche direttamente diciamo che noi vogliamo arrivare più o meno qui perché poi come ho detto purtroppo andando a prolungare fino all'altra strada dovremmo andarci a sacrificare uno dei palazzi che stanno qua quindi non è che mi faccio proprio in piazzi come idea vediamo un attimo però come si potrebbe si potrebbe fare quindi o possiamo utilizzare i parcheggi piccoli oppure già quelli grossi anche se grossi oddio qua ci starebbe proprio a pennello perché dall'altra parte ci abbiamo messo un un parco che è un po più piccolo delle zone abitative quindi veramente perfetto qua ovviamente come mi avete anche consigliato voi la zona interna potrebbe essere utile anche per metterci i parchi che appunto va a dare un bonus a tutta la zona invece di posizionali qua che comunque danno bonus però qua magari potremmo metterci delle unità abitative il parco magari in mezzo con anche delle strade solo per i pedoni insomma comunque rendere qualcosa di più interessante anche perché altrimenti la zona al centro non verrebbe sfruttata mentre in quel modo potrebbe tornarci assolutamente utile allora vediamo un attimo qui aumentiamo ovviamente a 35 che il nostro pagamento del del biglietto vediamo un po come la situazione velocizziamo un filino c'è già una prima vettura ora ovviamente questi lasciano la macchina qui è passata una fa piedi è l'unico l'unico modo a meno che non vada a fare di percorsi a piedi che visto che qui ancora non abbiamo messo niente potrebbero aiutare allora magari sta stata la prolunghiamo fino alla fine della del del parcheggio e poi utilizzando questo percorsi sicuramente pedonali potremmo fare qualcosa del genere e magari va proprio qui anche se non me lo fa attaccare ma farebbe attaccare qua storto allora prolunghiamolo un altro po' fatto comunque la strada finisce finisce qua quindi non dovremmo avere grossi problemi ok vabbè che se c'è sta la cosa pedonale non è un problema e qui facciamo la stessa cosa perché la facciamo così e la facciamo andare c'entra qua in mezzo dovrebbe però devo un attimo ma la faceva più fare si proprio precisa precisa così si va a infilare nei palazzi così chi può lasciare la macchina qua quando si accorgeranno insomma che c'è il il parcheggio eventualmente può regare può regarsi da questa parte o andare da quest'altra insomma quindi a diversi sbocchi poi qua c'è i strisci pedonali ma insomma tecnicamente il traffico manco ci arriva in questa parte ok sta arrivando anche un'altra macchina quindi piano piano come ho detto si iniziano un po' a a scoprire qui ovviamente nell'intersezione ci ha fatto un semaforo che volendo potrebbe pure andar bene volendo potrebbe anche andar bene ma piano piano penso che si accorgeranno un po' tutti che c'è sta il parcheggio infatti iniziano a girare sempre più in macchine mi sa che vado a togliere però no vabbè per il momento le tengo volevo togliere ste strisci pedonali qua però per il momento le teniamo poi se vanno a fare un po' troppa caciara tipo qua si crea tanta gente che è in attesa secondo me dovrei poter fare un passaggio pedonale che passano sotto perché si c'è il semaforo però quando sarà scattato il semaforo vedete c'è già tanta gente che attraversa perdono il tempo di passare e quindi è un po' un casotto a parte tutta sta gente da dove caspita è arrivata cioè mi arrivano alcuni volti proprio grupponi enormi questi arrivano tutti dalla parte del centro città qui si crea sempre il panico questo è un altro punto che dobbiamo risolvere perché si crea il panico per quelli che vanno qui al parcheggio della stazione non ho modo di evitare questa cosa se non che andare a spostare magari la stazione un filino più in dentro quindi tipo qui ovviamente dovremmo andare a spostare eventualmente anche magari falla un filino più in dentro e un filino verso destra così l'attacco diciamo dei binari di destra abbiamo tutto lo spazio e non è un problema quelli di sinistra che c'è la strada li potremo interrare e così togliamo tutta sta zona che insomma è un po' inutile tenerla così in superficie e ci liberiamo spazio eventualmente per mettere dell'altro e qui questo spero possa togliere un filino di traffico qui anche se insomma sicuro ci sarà gente che vorrà andare a parcheggiare quindi non so quanto si migliorerebbe la situazione a meno che non vada a fare uno svincolo magari qui direttamente qui in uscita che vada alla stazione solo quelli che vogliono andare alla stazione magari metto un senso unico da qui che vanno passano davanti alla stazione vanno dopo la stazione ed escono magari sempre su sta strada qui così il traffico si crea in quel frangente di strada e non si crea sto casino di gente che se fanno tre file e poi vogliono tutti entrare dentro al parcheggio della stazione direi che si può fare automaticamente credo che le tratte si vadano poi a sistemare ma le brutte lo faremo noi e direi che lo facciamo adesso però lo lasciamo in pausa perché la stazione qua la dobbiamo togliere perché la dobbiamo spostare e ok allora quindi questa la sbraghiamo ovviamente tutti saranno poco contenti di questa cosa ma io voglio semplicemente piazzarla più in là però devo farci prima la stata per poterla posizionare non posso posizionarla libera e poi attaccarci a strada dopo quindi per forza di cose dobbiamo fare un po' di lavoretti qui ovviamente c'era pure la metro quindi toccherà pure sistemare quella e ci abbiamo un po' da fare in verità allora intanto togliamo questo togliamo questa cosa qua lasciamoci un attimo questo qui e la metro poi andrà sistemata perché qui abbiamo già un'altra stazione la stazione della ferrovia non era male però devo vedere come poter fare una curva non troppo stretta per questa zona qui allora vediamo un attimo sicuramente ripeto la stazione così non ce la farà posizionare ma forse si vediamo un attimo vediamo se riusciamo magari a posizionarla la voglio mettere a filo dei appartamenti che non saranno contenti per via dei rumori però se me la fa mettere è meglio sì ok posso metterla perfetto perfetto così posso aggiustarmi meglio la situazione allora abbiamo detto che allora il contatto colleghiamoci le ferrovie qua i binari eccetera sta zona volendo possiamo interrarla purtroppo qua abbiamo gli scambi quindi è un po' un casotto vabbè la lasciamo in superficie magari togliamo minchia toglie tutto sto pezzo toglie un pezzo più piccolo non si riesce a tagliare no vabbè scema così e così quindi questa finisce qua questa finisce qua e questa uguale finisce qua dovrebbe funzionare tutto spero spero vada tutto la ruota invece allora questa è quella della metro quella sotto questa poi la sistemiamo questa qui no è quella dei passeggeri non è quella commerciale è qui mi sa che ancora no fino a qua me la fa arrivare però io se non ricordo male ce n'erano ben due che passavano da sta parte l'altra mi sa che era tipo la viola o era no mi sa che erano quelli merci che passavano attraverso vabbè per quelle le sistemiamo vabbè un lato l'abbiamo fatto perché è collegato ora appena colleghiamo anche l'altro potremmo fare la stessa cosa allora qui abbiamo detto che togliamo intanto il il ponte tutta sta zona la togliamo non ci serve lasciamo solo quel mozzicone diciamo lì in fondo per sapere appunto dove dobbiamo arrivare quindi qui dobbiamo cercare di fare in modo che ovviamente passano andare un po' a tutti quanti allora iniziamo ad interrarci qui ah cazzaro là qui c'è la stazione della metro quanto dovremmo scendere per evitare di andare sotto no così no così ok così sì va bene non mi interessa l'importante è farla allora dobbiamo arrivare a grosso modo tipo qua e qua iniziamo un attimino a risalire fino ad arrivare tipo qua ok è tutto il pezzo che va un po' più sotto perché qui c'era la fermata ma non è un problema e poi siamo qui quindi tutte queste cose qua devono andare qua ok spero che passino allora vediamo un attimo la rotta quindi questa abbiamo detto che finisce qua dovrebbe essere così in più in più però c'è un'altra fermata ora non so se quello merc in automatico si è rifatto perfetto si è rifatto perfetto non ho capito perché qua però mi dà le linee soprapposte perché l'ho fatta arrivare entrambe nella stessa parte secondo me sta rotta la dovrei rifare questa dove va questa gialla mica mi ricordo dovrebbe arrivare dove scusa questa qui dove va stazione ferroviaria ferroviaria è due scusa io questa la trascino magari su quest'altro ok quindi questa la trasciniamo su questa ok così perlomeno l'ho separata e non vanno tutte e due sullo stesso punto di scarico diciamo poi quell'altra è indipendente perché è quella viola che è quella commerciale questa volendo la posso far passare qua sì volendo sì ma non ci servono fermate ok direi che ci siamo allora sulla stazione dobbiamo mettere però i servizi intanto e metropolitana perfetto banchina aggiuntiva cioè mettiamo dovesse servirci parcheggio ovviamente rigorosamente a pagamento tanto quattro posti ci saranno dentro ok però dobbiamo sistemarci la questione della metro e la metro è questa tanto quindi intanto questi diciamo che di ora qua non mi ricordo se erano interni o esterni e minchia questi dovrebbero essere quelli interni a parte che intanto dobbiamo cercare di riattaccarci i binari questo può essere già un po' più complicato allora intanto andiamo a togliere sta curva qui vediamo se riusciamo a farne una che va direttamente in quella parte lì aspetta mettiamo quello che possiamo fare più di una curva così fanno tutto molto meglio no mi sa che è un po' troppo rigida cioè un po' troppo stretta rigida ok la sera infinita di curve si vanno magari con la strada ma serve questo ok potrebbe andare non ci ha dato che è troppo rigida dai troppo rigida troppo stretta niente oggi c'ho rigida è la parola del giorno oggi per me allora qui è un po' più facile invece perché non abbiamo troppe limitazioni quindi possiamo fare così e poi eventualmente così c'è una corvetta un po' strana ma non è un problema quindi andiamoci a sistemare invece le fermate che sembrano essere sistemate in automatico tranne per quest'altra ok questa che è la metropolitana 3 scusa ma questa sarà già sistemata vabbè mettiamola qui poi sapete lei perfetto quello che dobbiamo fare è ora mettergli la strada di collegamento questa ovviamente la mettiamo in superficie allora abbiamo detto mettiamo una strada che viene direttamente dal sottopasso qui secondo me una doppia ma anche una singola va bene una singola penso che possa andare bene quindi sì ma qui c'entracciamo anche i binari però annaccia se no devo fargli già lo svincolo vabbè anche se escono in superficie subito non è un problema sti cavoli no invece quanto pare può essere un problema però almeno se lo facciamo qui potrebbe non esserlo perfetto perfetto proprio così questa la metti qui e poi continuiamo in superficie magari con una linea corretta è un po' troppo vicina è un po' troppo vicina che cazzo ci proviamo a far così famo la retta così e poi quella che ci si deve attaccare facciamo così e qui la aggiorniamo con il verso perfetto va benissimo così qui ci facciamo un'altra curva il problema è che qua sarebbe dovuto arrivare qui più o meno e farla così in diagonale non mi piace ma io ce la famo proprio diritta dritta che va qui direi che è proprio perfetta ma è posto una bella linea dritta vabbè non è che l'abbiamo messo drittissima la stazione però vabbè sti cavoli dovrebbe funzionare togliamo la pausa e vediamo che succede la situazione sotto dovrebbe essere a posto loro ci hanno infatti vedi così ci sono anche quelli che vogliono eventualmente andare direttamente qui e non fanno qui magari le strisce pedonate le togliamo per evitare che si rallentino il semaforo purtroppo va mantenuto e alcuni arrivano direttamente qui e parcheggiano va bene ci potrebbe anche andare bene come come sistemazione ora qui il tempo che si vanno a sistemare un po' tutto il traffico però dicevo oddio sta gente da dove è uscita scusate voi da dove siete arrivati non ho capito forse sono quelli che scendono dal treno qui però sarebbe guarda che cazzo di casino il tempo che si va a sistemare la faccenda qui sarebbe interessante eventualmente minchia si ha fatto il traffico qua eventualmente fare un passaggio pedonale che non sarebbe male per cercare di unire le due strade perché chi deve andare a prendere il treno si deve fare tutto il giro e per cui non ci passa aspetta aspetta c'è la fermata qui quindi qui l'autobus ci sarà da modificare anche la linea vediamo un attimo che giro fa questa lo vediamo lo vediamo da qui ok ok allora questo appunto faceva il giro perché ci portava ma qui è in casino perché io qua come ce lo porto l'autobus dovrei eventualmente farlo cioè si può fare perché potremmo sfruttare la rotonda per farlo tornare indietro e fermarsi qui davanti la stazione credo che sia la soluzione migliore allora chiudi un attimo qua quindi qui ci prendiamo la fermata la mettiamo qui e bisogna togliere questa invece purtroppo dispiacerà aspetta qui però qualcosa l'avevamo già fatto quindi questa qua so che metto 70.000 cose insieme però se no poi mi scordo questa la possiamo fare così in modo che possono andare qua ed eventualmente fai proprio una una strisce pedonali e fa fare manco per il niente anzi le mettiamo mettiamo qui un po' pericoloso questi già escono a cannone d'acqua sopra però va bene faranno attenzione spero quindi andiamo a toglierci la fermata e la linea metro la linea dell'autobus dobbiamo farla arrivare qua quindi questa qui vediamo se in automatico si fa il giro o no farebbe la svolta a sinistra vabbè dai ci potrebbe pure andare bene poi torna indietro torna qui e si fa le solite fermate va bene anche se io avrei voluto evitare sta cosa perché ma se crea il panico è qua sotto infatti vedi se crea il panico a parte che ci ha messo pure le strisce pedonali che assolutamente no cioè proprio è una cosa bruttissima no no me le devi provo a togliere frate mi faccio a togliere queste strisce pedonali qua sotto annaccia la miseria così ok togli tutto quello che possa essere pedonale e io qua però faregli andare anche dritto cioè la svolta a destra la sinistra non è contemplata vediamo un po' non credo che mi mi diano retta sinceramente non credo non credo ce ne sono talmente tanti a parte che c'è sta dei semafori i semafori non dovrebbero esserci vediamo un po' messa che era il casino qua perché mi ha creato sto sto coso cioè mi ha torto il muro io quello non riesco a capire perché mi ha torto il muro forse avrei dovuto metterci l'autostrada invece che la strada ascensione qua scusate allora aspettate un attimo cerchiamo intanto di sistemare bene la faccenda qua perché si crea il panico si crea veramente il panico per tutti quelli che vogliono girare che poi volendo qua un parcheggio potremmo pure mettercelo anche se magari c'è molto spazio a meno che non lo mettiamo di qua volendo potremmo pure mettercelo vediamo un po' se oddio di qua verrebbe verso la fine ora mettiamolo di qua mettiamolo di qua vediamo com'è la situazione potremmo peggiorare ancora di più però allora devo provare magari se questa strada noi la aggiorniamo a quella l'autostrada tecnicamente non dovrebbe mettermi il muro spero ok il muro lo metto uguale perché mi metti sto cacchio cioè non mi metti il muro qui non capisco sta cosa e qua si crea il panico tutti quelli che vogliono girare a destra ovviamente ci gira anche l'autobus malgrado che abbia messo che si deve andare dritti non possono girare si crea il panico qui ora ma questa è un unico senso secondo me c'è da ingrandirla in doppio senso unico sta strada qua andiamo un attimo ok si forse scorre un po' di più ora si decisamente se si scepetano lì qua so so assurde forse avrei dovuto metterle un po' più qui esterne idem alla stazione cioè la fermata dell'autobus ora si crea casino ovviamente per chi vuole andare qua però se tutti si tengono su a sinistra quelli che vogliono andare dritti tecnicamente potrebbero scorrere senza qualsi problemi il problema è che si crea il panico qua perché malgrado io abbia messo che non devono girare ci girano tutti non ho idea di come poter risolvere sta facciando veramente non lo so sarà perché quella non è autostrada cosa io facessi l'upgrade in autostrada qua cosa risolverei qualcosa credo di no però che azione troppo dovrei rifare lo svincolo credo sarei grossetto mi sa farlo svincolo nuovamente è assurdo veramente ce l'ho messo che non ci possano andare c'è solo dritto c'è solo dritto ma comunque ci vanno non so che fa posso mancomente barriere proprio una cosa che appena ho messo questa strada qui me l'ha messa che cazzarola è ah il segnale di inizio autostrada vabbè è inutile perché praticamente tanto non cambiava niente pensavo che mi andasse a modificare qualcosa qua invece no quindi ci rimetto quella no ci rimetto la strada normale però ha doppio senso ok non so se me l'ha cambiato ah no inclinazione troppo troppo ampia vabbè lasciamo così e guardi dai non è un problema e non lo so il problema è che non è molto molto bella questa cosa perché si era casino ora sono le 8 58 potrebbe cassa un po' dei cacciara vabbè vediamo poi come gestircela la situazione altrimenti sarebbe da fare qualcosa specifico per chi viene da qua perché giustamente l'unico punto per arrivare qua è da questa strada ovviamente non si mettono a far giro guarda che chiacchio di traffico qua che traffico che c'è qua incredibile minchia questo è perché si crea traffico perché qui c'è eppure c'è star semaforo c'è insieme dei dei incroci vari ed eventuali che crea un sacco di casino il tempo che si arrivano alle avore e poi non c'è più cacciara allora io credo che qui si scepetano noi da là ce le devo togliere che sono un attimino pericolose quindi qui era o lì o dall'altra parte preferisco metterle da là e la fermata pure la spostiamo ne piazzo o ne piazzo no un'altra magari no cioè non ne tengo due ce ne nasce una sola no no l'edificio no ce ne nasce ce ne nasce una e la colleghiamo ovviamente ok questa la puoi togliere questa la puoi togliere grazie a posto perché venivano da sotto il passaggio abbastanza velocemente era un po' un casotto era era pericoloso mentre qui magari ci sono sia quelli che escono dai parcheggi quindi possono attraversare sia quelli che magari si devono ferma per la per la fermata è un casino sta strada in verità perché ovviamente avendo dato la possibilità di parcheggiare se creare panico però perlomeno diamo un po' di respiro pure al parcheggio qua che insomma è comunque abbastanza pienotto ma per il momento tiene tiene botta qui se creare panico ovviamente se no dovrei dare la possibilità soltanto da un lato di di parcheggiare e non dall'altro qui è diventata la strada più trafficata della zona qui ovviamente si è tutto un po' più tranquillizzato perché appunto abbiamo tolto un bel po' di di strada cioè di traffico insomma l'abbiamo spostata solo in un'altra strada un po' a sé capito quindi le strade principali diciamo sono abbastanza ora liberi mentre si è creato il panico qui praticamente si è proprio creato il panico qui secondo me dovrei però che abbiamo già messo questa potremmo creare uno svincolo ad hoc per chi vuole andare qui magari questa strada provarla ad ingrandire un po' ma diventerebbe a parte che ha già tre corsie queste sarebbero un po' troppe cioè già come la sto cercando di aumentare quindi niente però vediamo come fare una stradina ad hoc perché appunto vuole andare qui facciamo uno svincoletto carino vediamo come che esce fuori più che altro allora se noi partissimo da qua e no così la strada ce la fa per forza un'autostrada farmi fare uno svincolo e se quanto pare se cioè così viene un po' più figo poi vabbè questi scipetonari eventualmente ce li togliamo questa ne arriverebbe qua eppure devo farlo inserire un po' più in avanti però così farei un incrocio che va bene incrocio su una strada assenzionica farebbe pure stacce quindi invece di fare l'autostrada faremo un'altra strada assenzionica oppure pure una sola che taglia così verticale e si insinua qua tipo così vediamo che caspita viene fuori in azuzieria ma aspetta però cerchiamo di valla tipo così ok qui però ci andiamo a togliere praticamente tutti le strisce pedonali possibili immaginabili e gli temi i semafori non togli tutto e via è questa che non riesco a capire il perché dai la possibilità di girare cioè se io adesso togliessi la cosa che loro non possono girare ok qui comunque mi rimane il buco non mi rimane chiuso e quindi magari quelli che arrivano qui arrivano e girano e quella è una cosa che non capisco cioè dovrei rimettere il pezzo di strada vediamo un attimo cioè se io aggiorno sto pezzo no non è così spesso affan casino perché è quest'altro e lui comunque non è che ne mette un altro quello che non capisco andiamo un attimo così me lo mette al centro no comunque l'intersezione va va a togliere sto pezzo che poi qui per il momento sembra che mi dia un ascolto di questa camota invece ha fatto non riesco a capire meno che non devo evitare di mettere la strada normale con l'autostrada ma l'autostrada comunque aveva fatto un casino comunque anche l'autostrada aveva fatto mezzo un piccio vediamo ma ormai ormai è fatta allora aspetta per rimetterla normale devo togliere la strada quindi l'ultimo pezzo se io lo mettessi come autostrada niente lui comunque mi fa le intersezioni così come caspita la devo mettere sta cosa non c'è un modo per evitare che faccia sta cosa io la voglio evitare sta cosa che devo mettere un un veicolo che devo fare niente appena creo lui comunque mi fa perché mi fa le strisce pedonali il problema cioè se le faccio così non le macchine non vanno di là perché è troppo piccolo lo spazio ma se lo allargo vedete in questo modo sì a parte che vabbè non ho fatto comunque a stanza unica ma uguale non ho modo di evitare che vadano dall'altra parte no lo so o c'è qualcosa che mi sfugge a me oppure non c'è modo che pure l'autostrada fa uguale appena la vai a intersecare a meno che non fai autostrada è autostrada allora in quel momento lo puoi fare puoi fare appunto di mettere cioè lui non va dall'altra parte ovviamente ma non è che posso mettere l'autostrada in mezzo mezzo alla città insomma però volevo proprio evitare il fatto che potessero andare dall'altro lato quello volevo evitare però a quanto pare non è possibile vabbè poi ragazzi magari voi lo sapete ditelo nei commenti è facile che mi sfuga qualcosa a me insomma allora no no l'autostrada voglio mettere la strada normale però mettiamola a due corsie perché sicuro servirà quindi facciamo l'upgrade anche di questa no che cazzo l'ha fatto sto a fare un casino qua questo ok allora mentre qui andiamo a toglierci queste strisce qua ce le rimango ma qui andiamo a togliere tutto andiamo a togliere anche i semafori e qui c'è già solo a destra quindi a posto così ok vediamo se si va a fermare un pochettino proprio questi che c'hanno il dare precedenza no se sta a lavorare perché sta a ferma non lo so non so perché stia a ferma questo ma non dimmi che non va avanti perché c'è tutto sto traffico qui questa no è un casino no no so si è fermato così perché non dimmi rifiuti sì questi che fanno inversione ovviamente niente per quanto comunque non ci sia cioè non ci sia un segnale così specifico ci troverai sicuramente qualcuno che fa come gli pare o come nella realtà vabbè qui mi sembra che ci sia ancora più casino di prima in verità perché ovviamente qui abbiamo dato anche la possibilità a quelli di andare dall'altra parte e quindi se crea il panico malgrado i semafori qui perché se crea il panico perché se crea qui che ci posso fare diciamo che il problema del traffico l'abbiamo semplicemente spostato oh gente qui firma quanti ce ne 369 i passeggeri in attesa aspetta ma sa che c'è da potenzia un attimo sta linea beh no sta al 96% quindi non è che è proprio poca io penso che col fatto del traffico che c'è guarda ah gente col traffico che c'è è un casino ma io non so la metro la metro pure funziona ok collegato poi ci sono queste doppie linee rosse che entrano che non riesco a capire non riesco a capire perché vabbè ma qui al 100% quindi io un paio di autobus in più li metterei in funzione ovviamente il tempo che escono dalla dalla zona di smistamento diciamo quanti ne salgono qui 246 qui 8 guarda la gente 427 persone in attesa secondo me ho fatto una cacchiata a far parcheggiare le macchine qua famo una cosa un lato evitiamo di farle parcheggiare se no si crea veramente il panico parcheggiare solo da una parte ma non da tutto il lato ok così parte i i pedoni hanno più spazio non so se sarà una buona idea che questa sarà da qui non so se sarà una buona idea ripeto abbiamo torto il traffico qui che è ovviamente molto più libero se no dovrei fare qualcosa che vada qua perché ovviamente chi viene da sta strada e vuole andare qua l'unico punto per arrivarci è fare questo incrocio qui non so se mettendo una rotatoria possa migliorare la situazione ma non non lo so proviamo intanto le brutte se la togliamo lui in automatico ricrea gli incroci vediamo un attimo se la rotatoria potrebbe essere risolutiva o meno ci arriviamo un attimo che ovviamente c'è chi in coda ma sta un po' impicciato dobbiamo aspettare che si tolgano queste macchine che prima erano in coda vai furgone per le consegne su ok vediamo un po' se si snoda meglio la situazione il problema è che abbiamo fatto sta strada si è enorme però non la sfruttano appieno magari va un po' meglio bisogna vedere poi nelle ore di punta quindi o di la mattina o quelli che rientrano poi il pomeriggio barra sera se effettivamente può avere qualche problema allora qui abbiamo sempre più persone 590 gli adibus parelli non gliela fanno a stagli appresso però vediamo se riusciamo a smaltire un po' la situazione qui non c'è modo di fermare i taxi ci sta però noi non abbiamo ancora abilitato i taxi quindi quella è un'altra cosa questi sono quelli che vanno alla stazione questi qui in attesa non so se sui passeggeri penso della linea ferroviaria la linea metropolitana non so effettivamente quanti quanti ce ne sono passeggeri se sono i veicoli attivi passeggeri 382 ma di tutta la linea non de guarda che ciazzo beh non si può dire che la gente non utilizzi mezzi pubblici il problema è che siamo noi che col fatto che c'è già un sacco di cacciara però ne stanno arrivando altri questo per esempio è voto quindi uno di quelli che abbiamo chiamato raccolta e questo ce ne ha 15 ma insomma ce ne vorrà un po' prima che riusciamo a svuotare tutta sta fermata insomma dai qua già ne salgono due insieme questo se è già bello che è riempito qua qualcuno ne scenderà e ne salirà c'è tanta tanta gente che va che va a piedi diminuiamo un po' la velocità comunque lo spostamento qua secondo me è servito può andar bene così un po' di gente la smistiamo un po' di traffico lo abbiamo tolto qua sulla strada perché era proponibile quelli che cercavano di entrare nel parcheggio della stazione facevano solo un gran cacciara certo ora qui abbiamo un vialone praticamente voto e qui il panico di quelli che vogliono girare a destra a sinistra cioè ovviamente avrei voluto che utilizzassero la rotatoria qua sopra ma come prima come la parte in superficie non c'è modo di evitare che si torga sto muro e quindi per forza di cose devono fare sta cosa malgrado appunto cioè gli abbia vietato di girare a sinistra non c'è ma l'autobus forse andando a muoverle manualmente la rotta il percorso potrei dirgli ti guarda ti fa giro e vieni qua ma farebbe semplicemente solo troppo troppo trapassata in più insomma parte che ora comunque se crea cacciara perché ci sono quelli che ugualmente vogliono tentare la sorta nel parcheggio della stazione e la fermata quasi quasi la fermata avrei dovuto mettere dall'altro lato l'avrei dovuto mettere di qua perché così non andava ad intrecciare appunto quelli che si fermavano per entrare nella stazione anche se qua c'è come il parcheggio normale già voi li ho messi un po' tutti attacchiati chi si ferma per gira a destra per la stazione chi a sinistra per il parcheggio normale poi c'è pure la fermata dell'autobus quindi ho proprio concentrato le peggio cose in un unico punto non è stata forse una buona mossa questo sono sempre 80 su 80 ma siamo veramente in overbooking questa questa cosa buttiamone di entrarti tu allora alla fine mi fermate sono oddio qua sta quale quale punto oddio guarda qua guarda qua quanti ce ne stanno che stanno a salire 21 perché alcune fermate ci sono ma sono praticamente vuote tipo questa insomma poche persone altre sono veramente a tappo per quanto riguarda la linea gialla ok allora vediamo un attimino come va qui invece la situazione mi sembra decisamente più tranquilla le macchine comunque ci hanno parcheggiato poi ci sono quelli che fanno il giro cioè escono da qua fanno il giro e torneranno indietro quindi qui la situazione mi sembra decisamente più tranquilla abbiamo anche un bel po' di richieste di alta densità e quasi quasi ce la mettiamo qui in mezzo mettiamola qui in mezzo vediamo certo ma potrebbe essere un po' più complicata la questione perché ovviamente mettendo il parcheggio qua sono venuti a parcheggiare pure i non residenti diciamo anche se comunque qui abbiamo 270 unità abitative qua 180 quindi sto parcheggio da 200 sta un po' strettino vediamo un po' con questi nuovi come si evolve la situazione comunque l'idea non è male potrebbe aiutare insomma per evitare che parcheggino in giro loro hanno comunque tutta la libertà per parcheggiare insomma ho tolto le varie limitazioni se non quella che ho messo adesso insomma a voi per evitare che lo facciano qui però hanno libero un libero parcheggio insomma ovunque e sono loro ovviamente che decidono i parcheggiati dove devono arrivare e quindi il più vicino possibile alla loro destinazione se no veramente sono libero di farlo come gli pare quindi prima di salutarci ragazzi perché abbiamo fatto un po' pochina ma abbiamo perso un sacco di tempo volevo spostare un'altra cosa la scusate il centro di ricercolo che è qui perché comunque l'inquinamento vedete il vento che va insomma da nord verso sud qua pure un pochettino ma ci arriva magari un po' poco ma qui sarebbe carino farci una zona magari quella di bassa intensità come come abitazione insomma il problema è che c'è sta cosa qua quindi visto che abbiamo anche un bel po' di quadrati che possiamo acquistare e di soldi direi che non ne abbiamo problemi possiamo prenderci intanto questi e allungarci un po' la strada e spostarla via un po' più lontano qua che cazzo è successo furgoncino se buttarlo sotto l'autostrada quindi questa è una quattro corsie la prolunghiamo così senza grossi problemi spero sempre un po' storta beh in questo modo quindi questa la prendiamo di blocco e la spostiamo la spostiamo qua in fondo ok ovviamente ora ci piegherà un pochetto prima che tutto si si vada a risolvere nel mentre cerchiamo di farci già la divisione quindi questa la tiriamo giù questa la possiamo far passare penso sotto sì perfetto per il momento la arriviamo fino a qua giù e qua ci potremmo fare anche un'altra rotatoria magari qua e ci tiriamo giù l'altra strada questa sotto purtroppo non ci passa ah perché qui c'è star ponte cioè non non è troppo rialzato sto pezzo qua quindi quindi no aspetta vediamo se riusciamo a farla magari un po' più qua e che ci ho messo che è sta cosa parchietto questo possiamo spostare quindi o la metteva qua o qua qui dovrebbe andar bene spero insomma quindi qua qua e niente che cacchiaro là per qua va bene e vabbè arriviamo fin dove se può e poi vediamo ok quindi vediamo un attimino questa volendo potremmo prolungarla ok giusto per tirare le strade quelle più grandi per i collegamenti poi ce la gestiamo noi sarebbe da tirarne un'altra qui in verità il problema è che qui c'è tutti i vari svincoli qui ci avevamo messo lo stadio che volendo potremmo spostare magari di qua ok così non siamo torti a nessuno una bella rotonda anche qua e qua ci facciamo partire la strada come prima ok questa la facciamo congiungere con l'altra più giù che non mi dà la linea però noi partiamo al contrario ok perfetto abbiamo gettato le basi ora mettiamo anche le strade in mezzo queste ovviamente possiamo mettere le normali non c'è bisogno degli stradoni enormi quindi facciamo intanto così ci lasciamo un po' di strade un po' di spazio al centro non è male perché così ci mettiamo appunto magari dei parchi o altro anzi forse qua ce lo lascio forse un po' poco e vabbè qui ovviamente non sono contenti di arrivarci perché è tutta una zona un po' inquinata però questa parte qui magari potrebbe già andare bene qua dobbiamo solo attendere che l'inquinamento vedete col fatto che comunque ora vabbè si arriva anche dove stanno già costruendo però piano piano si sta togliendo deve solo passare un po' di tempo velocizziamo un attimino infatti vedete si è spostato qui perché l'abbiamo spostata e piano piano sta andando qui un po' più verso sinistra io però già che ci stiamo a spostare toglierei anche questo perché qua comunque un po' ambisce le strade e questa qua l'andrei a piazzare tipo qua che tanto è veramente in mezzo al nulla e non dovrebbe dar troppa troppa noia qui ci sono comunque degli appartamenti ma stanno un po' lontani qui va più in diagonale devo ricordarmelo se no la devo piazzare qua piazzamola più sopra tanto l'importante è che siano collegati a una strada però non mi ricordo se questa l'avevamo no quartiere no ok quindi qua andrà più o meno in questa zona così anche qui seppure arrivava un filino da sta parte dovrebbero stare tranquilli qua dobbiamo solo pazientare che si tolga insomma sì ovviamente sono cioè non sono contenti di quello che respirano ovviamente sono felice ma avevamo comunque meno 9 di aria inquinata quindi una volta che passa un attimino il tempo si toglie tutto l'inquinamento di questa zona e dovrebbe togliersi anche il il malus allora intanto vado a mettere anche queste zone che piano piano poi diventeranno più contenti anche per essere riempite insomma dalle case quindi per il momento sono rosse per via dalla zona inquinata però piano piano dovrebbe andarsi a schiarire allora prima di salutarci veramente mettiamo le prime cosette per quanto riguarda la clinica dobbiamo mettergli dei parchi quindi una bel parco giochi lo mettiamo qui anche se forse un altro non sarebbe male campo ragazzo però enorme cacchio lo piazziamo da quest'altro lato ma si così magari si piglia pure quelli che saranno dall'altra parte e ci mettiamo ovviamente i pompieri anche se ce n'è una qua magari un'altra che possa intervenire più prontamente non è male ovviamente anche stazione della polizia e poi un'altra cosa che non mi ricordo direi basta i parchi li ho messi internet come stanno vabbè le caselle di posta si assolutamente le mettiamo una qua una qua e una qui quanto riguarda internet direi che ci stanno abbastanza bene qui è giallo addirittura perché troppa poca potenza perché sono gialle stiamo un attimino avendo qualche problema tecnico mi pare di aver lasciate gialle ad assicuramente con l'aumento delle persone dovrebbero essere tutte fatte upgrade al massimo si ora si vede che con le persone qualità della rete grossomato ok però qua abbiamo qualche problema tecnico scusa fai file banchi server fermo e torri per telecomunicazioni questa costa un buato questa dovrebbe migliorare forse un po' di più la situazione vediamo un po' se gli piace che c'è questa ok questa non ha un upgrade aspettate un attimo com'è la faccenda qua allora qua un filino meglio qui ancora un po' giallognola quindi mettiamene un'altra forse con il fatto che ci sia più unità abitative la rete ovviamente magari non risente quindi meglio avercela un po' di più va bene già un po' più giallognola invece che un po' più giallo scuro ne dovremmo mettere un'altra più o meno qua ok perfetto ok allora qui piano piano si sta togliendo il malus per per fortuna solo alcuni insomma hanno noia ma effettivamente qui nella prima parte si è già tolto c'è giusto sto pezzo qui per il resto va bene quindi velocemente ragazzi togliamoci anzi andiamo a metterci l'altra estate qua ok così ci creiamo gli altri quartieri per ospitare altre case a bassa densità che non è male ah volevo mettere la ecco la scuola una scuola tocca mettere qui e vabbè la metto da quest'altro lato così magari prende entrambi i quartieri meglio metti questa metti per questa a fianco e a posto così questi sono rossi non sono molto contenti di stare da sta parte comunque gli metto che volendo possono costruire vediamo se se ci rimangono mentre per quanto riguarda le zone commerciali magari quelle a bassa densità a me sembrano poi così contenti qui sono un po' tutti arancioni pure quelli alta densità alla fine magari qualcosina un po' in giro qui sarebbero ottimi però non voglio prendere tutta la zona quindi mettiamocela magari manualmente tipo un po' così sparsi ok così giusto per avere un'idea ok abbiamo un bel po' di richieste invece per l'alta densità che dobbiamo cercare di gestire un po' meglio assolutamente un po' meglio qui ci abbiamo messo lente questo lo possiamo magari spostare un attimo anzi dovremmo magari mettere un altro non mi ricordo dove era però mi sa chi era dove era lente questo smestamento della posta nazione non mi ricordo era scuola no questo riciclo scusa tu dove caspita esci mentre assistenziale ma non mi ricordo ma non mi ricordo dove esce dove era una di questi istruzioni no mi sa di no queste sono le università riciclaggio non credo acqua corrente tipo parchi roba del genere no vabbè non mi ricordo forse un altro potrei mettercelo perché questo per esempio ce l'avemmo qui di uno questo questo per esempio prende come zona vedete quando lo metto qui ci sono alcuni punti in fondo adesso che non li prende oppure l'asso in cima che è proprio totalmente rosso quindi mi verrebbe da mettere un altro se solo ricordassi appunto dove questa so ok non è questo no questi sono i monumenti unici vabbè ora non mi ricordo bambini allora direi che ci possiamo anche salutare qui mentre faccio cose dividiamo anche questo volevo semplicemente far questo per quello l'ho spostata dalla vorrevo ok andiamo a creare appunto i nuovi quartieri dicevo possiamo salutarci qui siamo andati tremendamente lunghi ci abbiamo comunque alcune cose da sistemare qui veramente blocchiatissimi che poi vabbè ci sono quelli che non sanno manco loro come andà come strade eccetera perché magari vengono dalla corsia di sinistra poi vogliono parcheggiare qui quindi è un po' un casotto da questo punto di vista forse dovrei mettere un altro parcheggio che se questo non è pieno però dall'altro lato tipo qui in modo che non si crei troppa caciara e qua se ne crea un casino perché come ho detto ho messo chi esce e chi vuole entrare di fronte praticamente quindi questo lo dovrei spostare faccio subito magari vado a sacrificare una struttura qui e me la devo spostare tipo qua dobbiamo spostarlo questi che sono alta densità se ce la posso mettere qui però magari gli piace di più e se mettono qui ok sì questi li ho tolti però perlomeno qui ora dovrebbe essere un po' più veloce la situazione qui stiamo sempre impicciati con queste queste fermate e ne arrivano sempre sempre di più cosa assurda veramente una cosa assurda non ci bastano forse tutti anche se la linea è dell'83% ma penso che il problema sia perché è troppo lenta fa tutto il giro ce ne sono tanti che non so se sono appena arrivati adesso di quelli che avevo chiamato prima però mi aveva da pensare sì ma questo è voto e non si ferma perché non si ferma bastardo io non so ti ho preso proprio perché ti devi mettere qua pure quest'altra sarà voto no stanno diversi una presso l'altra che in teoria so voti questo questo devi mettere se là per forza che ti riprende niente questo va dritto sicuro guarda sono sicuro dritto perché ce ne sono già diversi qui alla fermata guarda ho detto mannaggia la miseria mannaggia la miseria se no tocca spostarla a un filino sta sta fermata magari tipo qui vediamo un attimo se la posso spostare tipo qui ok ma tutta sta gente che si sposta ovviamente però perlomeno l'autobus non si ferma dopo questo devono girare è veramente un casino di gente guarda che si pensa che c'è appena rinunciata una certa dice sa che c'è me ne vado a piedi sto aspettando veramente tanto tempo che me ne vado a piedi dai questo perlomeno si riempie ok subito e via ne sta arrivando altro pure vuoto quindi piano piano dovrebbero arrivare il tempo che se che se smistano un pochettino traffico ovviamente permettendo qua mi sembra che la rotonda si abbia un po' smossa la situazione ma poi comunque si arenano qua questi gialli che sono tutti quelli che fanno sta tratta va bene va bene allora ragazzi dai veramente possiamo salutarci qui purtroppo è un gioco che inizia a giocarci e passano le ore che manco te ne accorgi per tutte le miliardi di cose che ci so che ci so da fare io come sempre ragazzi vi ringrazio soprattutto se siete arrivati fino in fondo se vi fa piacere lasciatevi un mi piace un commentino soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete fatto dalle statistiche vedo che c'è tipo il 70% delle persone che guardano i video ma non sono iscritte per voi non costa niente a me date veramente una grande mano per cercare di tirar su il canale quindi se vi va fatelo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao